La Confcommercio di Pescara ha deciso di offrire contratti stagionali ai cittadini ucraini arrivati in città e in provincia per sorgire alla guerra in particolare impiegandoli negli stabilimenti balneari, i ristoranti e gli esercizi pubblici per l'estate, lo precisa il presidente Riccardo Padovano, che parla anche di corsi di formazione destinati a questi cittadini. Siamo partiti, abbiamo colto questa idea perché nella Confcommercio di Asco è stata aperta la borsa lavoro per quanto riguarda le imprese del turismo, ci riferiamo agli alberghi, stabilimenti balneari e ristoranti. Abbiamo detto perché no, abbiamo gli enti di formazione, possiamo dare loro questa opportunità di formare queste persone che sono venute dall'Ucraina e dare anche un po' di accoglienza in come? Noi andiamo nella stagione estiva, lo stanno con i bambini, possono tranquillamente portare i figli sul posto di lavoro e incominciamo anche con loro a dialogare, i tempi per una formazione ci sono e dando loro un'opportunità anche di lavoro ma non perché anche questo potrebbe essere un modo per stare vicino a queste persone. Poi uno scambio culturale non è male, sia per noi che per loro, che ne sa, se domani uno che sta da noi e torna in Ucraina e si impara a fargli arrosticini, tutto, così i popoli si sono emancipati con lo scambio di conoscenze. Ed essendo in particolare donne, impiegarle, dice Padovano, magari... Nell'albero d'alberghiera, la pulizia delle stanze, le donne alle camere, le governanti, le persone in cucina, le persone in sala, nei bar. Io credo che il nostro lavoro è un lavoro che sta al mezzo al pubblico, che lo aiuta molto, che credo che aiuti molto e nello stesso tempo non è un lavoro che devono andare a lavorare nella filiera della fabbrica, le metalmeccanici. Quindi noi siamo disponibili, abbiamo avuto già un paio di ristoranti che ci hanno chiesto che l'iniziativa è buona, giustamente loro ci hanno detto ma sanno usare le mani intese come attività lavorativa, manuale? E noi ci diamo da fare, ci daremo da fare. Un appello dunque anche agli imprenditori, ai piccoli imprenditori? Questo è l'appello che va rivolto a tutti i piccoli imprenditori, la maggior parte di noi siamo tutte imprese familiari. È un modo, secondo me è un modo nobile di accogliere queste persone e dare a loro un'opportunità di lavoro, anche se forse non avremmo bisogno perché col personale siamo al completo. Ma negare un piatto di minaccia non si nega a nessuno.